Buongiorno a tutti, io sono Alessio Saccoccio e sono l'ideatore della startup innovativa Idroluppolo. Noi innoviamo il processo di produzione del luppolo attraverso l'agricoltura idroponica. Come ben sapete il luppolo è la prima materia per una delle prime materie per la produzione di birra che è la beanda alcolica più bevuta al mondo e inoltre viene utilizzato anche dagli chef in cucina e per preparati di tipo farmaceutico. Il mercato del luppolo in Italia vale 300 milioni di euro, ci sono mille birifici attivi al momento che producono 14 milioni di ettolitri di birra ed una sola coltivazione certificata. Questo significa che il 97% del luppolo che viene utilizzato in Italia è importato dall'estero. La coltivazione di luppolo è afflitta da diverse problematiche tipiche, innanzitutto il consumo idrico, si consuma anche molto suolo perché si stima una pianta per metro quadro, c'è abbondante utilizzo di agrofarmaci e pesticidi perché sono le multinazionali che coltivano il luppolo, è molto sensibile alle variazioni climatiche ed è molto facile perdere il raccolto ed infine è possibile realizzare un unico raccolto annuo. Con Idroluppolo risolviamo tutte queste problematiche, innanzitutto grazie alla tecnologia idroponica riusciamo a risparmiare oltre il 50% di acqua, riusciamo a produrre 4 volte di più per metro quadro, non utilizziamo pesticidi agrofarmaci, riusciamo a coltivare in serra e tuteliamo quindi il raccolto da quelle che sono le variazioni climatiche e infine riusciamo a moltiplicare i raccolti annui superando anche i due raccolti per anno. Abbiamo già effettuato il primo raccolto nel 2018, è stata la nostra prima produzione sperimentale, abbiamo ottenuto dei risultati molto lusinghieri, si parla quasi di un chilo di prodotto fresco a pianta ed è un ottimo risultato per una prima produzione. Riusciremo con una sera di mille metri quadri a produrre 24 tonnellate di luppolo ma non genereremo profitti solamente dalla vendita del luppolo, genereremo ricavi anche dalla vendita del nostro impianto idroponico, della nostra soluzione nutritiva, della nostra consulenza e in futuro anche sulla lavorazione del prodotto finito. I ricavi che riusciamo a totalizzare sono di 730 mila euro l'anno a pieno regime che potremo reinvestire nelle nostre due innovazioni che sono la nostra soluzione nutritiva dedicata e la nostra sensoristica IoT che ci permette di monitorare la pianta. Inoltre investiamo anche in ricerca e sviluppo, investiremo nell'utilizzo di HPLC per analizzare i luppoli più famosi ed andare poi a ripetere il loro profilo organolettico e aromatico e infine grazie all'utilizzo delle lampade riusciremo ad aumentare quelle che sono le caratteristiche funzionali del prodotto. La nostra concorrenza è costituita per lo più da multinazionali che però idroluppolo si posiziona nella parte alta a sinistra del grafico perché riesce a produrre 4 volte di più per metro quadro consumando meno della metà dell'acqua. Il team è costituito da me che sono un ingegnere gestionale, Carlo Muzzi dottorato in biologia e Alessandro Cinelli è un consulente esperto di tecnologia idroponica L'idea è nata nel 2016 ma abbiamo realizzato la start up a fine 2018 dopo aver realizzato la prima birra idroponica europea grazie a Birificio Pontino. Abbiamo già vinto diversi premi abbiamo vinto un presid, abbiamo vinto la Start Cup, abbiamo manifestazioni di interesse dei principali produttori di birra artigianali italiani, collaboriamo con il CREA, con Tor Vergata e parlano di noi già diverse testate giornalistiche come Terra e Vita e il giornale della birra. Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di 165 mila euro per realizzare la prima serra da millimetri quadri, vediamo che riusciremo a rientrare dall'investimento già al secondo anno, al terzo anno saremo già profittevoli, siamo i primi in Europa che producono luppolo idroponico, vi lascio con un piatto realizzato da uno chef gourmet con i nostri germogli di luppolo, visto che l'ora è anche quella giusta. Grazie a tutti.